Conosce Firenze? Firenze? No, Firenze non l'ho mai sentita dire Marotta, ti conosci Marotta? È bella molto, Marotta è molto bella Ora siamo in questo show una presenza importante qui alla BCC Arena Di peso Sì, sempre, ormai sono 30 anni La rosa è sui 90 kg, quindi il peso c'è Come sempre, come ogni estate, un cult, come dice Santinelli Un cult, un must Un must del San Costanzo Show La mezzanotte degli Oscar il 26 luglio con tutto il San Costanzo Show al completo Sì, mezzanotte degli Oscar, vi aspettiamo Si parla di premi cinematografici, di omaggi ai grandi del cinema Parodie del cinema, lui è un doppiatore Perché parla e non si sente niente? Perché lui viene doppiato È un ventriloco Più che un doppiatore è vero, è un ventriloco Salve sono Rosa della Cecca, vedi come è ventriloco Qualun è il tutto, ti va aspettare, sono dimagrita e mi sono anche un po' imbrutita Dice la verità Ecco, ci sarà Rosa della Cecca, ci saranno tutti i personaggi di Giovanni Giagiacomo E tutta la banda al completo Con risate assicurate o no? Sì, beh, certo Ci mancherebbe, ci faccia le domande Volevo sapere, a parte la conduzione della serata classica, portate anche il vostro repertorio Certo, certo, questo è uno spettacolo di due o tre anni fa che abbiamo portato in giro Come sempre a Tre Ponti, tiriamo fuori dal cilindro le migliori produzioni del San Costanzo Show Per l'estate all'Arena BCC I biglietti sono in vendita, li potete comprare online, li potete comprare a Tre Ponti Li potete comprare all'edicola dei Kikes Cari di Carnevale Un sacco di posti O se no li comprate la sera stessa Vi aspettiamo, 26 luglio Dai, 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 alla grande Non devi parlare, non devi parlare Non devi parlare Facca rifarlo, lo sapevo